Mi chiesto da visita quando vuoi entrare in ospedale. Gaia, guarda, Gaia, grazie. Gaia, guarda, mi guarda, mi guarda, mi passettino indietro con la figlia della forza della scala. Madonna che brutta luce. Esatto, è l'olio. Eccola. Guarda, guarda. Guarda che fa di fronte a te. Guarda qui, grazie. Fai un saluto. Salutaci, grazie. Gaia, Gaia, salutaci. Smile. Salute tuoi e baci i miei. Guarda. Giaia. Giaia. Giaia, facciamo anche il scato anche all'ombra? Sì. Un baccarolo si può togliere. No, più un'ombra fino a un casente. Sì. Sì.